Facciamo un passo indietro a venerdì sera a Ponti sul Mincio, provincia di Mantova, dove era in corso una importante festa della Lega Nord, a cui era presente il sindaco di Verona e il segretario della Liga Veneta Flavio Tosi, lo ha intervistato per noi Marco De Luca. Flavio Tosi, si parla molto spesso della sua possibile candidatura a leader del centro-destra. No, ma il ragionamento è diverso. L'abbiamo visto che le ultime politiche, dove per una scelta giusta, perché è stato giusto provare a vincere e vincere, come ha avuto il coraggio di fare il Bobo Maroni in Lombardia. Però è chiaro che l'alleanza alle politiche con Berlusconi, con il centro-destra, ci ha portato un po' a scomparire sul piano nazionale. E quindi adesso, visto che, per fortuna, avendo vinto col Bobo in Lombardia, siamo tranquilli sotto questo profilo, prima o poi ci saranno le elezioni politiche, speriamo prima che poi. E quindi sarebbe giusto che, per una volta, visto che fino adesso abbiamo di fatto assecondato, ripeto, strategicamente, i desiderata di Berlusconi e del PDL, ce la giochiamo. E quindi, secondo me, è giusto fare le primarie del centro-destra, dove la Lega avrà Tosi, altri, Zai, Acota, chiunque voglia, candidato alle primarie, il PDL i suoi. E siccome la Lega ha tanti dirigenti, giovani, bravi, preparati, che possono competere, non vedo perché per forza dobbiamo andare a votare uno di quegli altri. Io non so se magari si possa vincere le primarie, ma è giusto far vedere alla nostra gente, ai nostri territori, che siamo pronti anche noi a governare, senza andare appunto al traino del PDL, perché noi non siamo né meno capaci né meno bravi di loro. Tanto c'è una necessità anche di ricambio generazionale. A sinistra sembra che stiano per farlo. Adesso serve ancora? Beh, allora, la Lega, nel centro-destra, la Lega l'ha fatto, l'ha fatto in maniera netta, perché dal segretario, da Bobo Maroni, ai governatori, insomma, la classe dirigente, ai segretari, è tutta gente giovane. Il PDL ha fatto molto meno ricambio, l'ha detto con molta tranquillità. Nel PD non ce l'hanno fatta, perché se vinceva Matteo Renzi lo facevano, invece vincendo Bersani, di fatto hanno, beh, l'offerta politica dell'ultima politica era Bersani, Berlusconi, Grillo, Monti, tutti giovanotti. C'è da sperare, invece, che al prossimo giro ci possa essere magari un candidato della Lega e anche magari correre da soli, che non sarebbe affatto male, anzi, forse tutto sommato che non sia quello che la gente e i nostri si aspettano da noi. E quindi, appunto, confrontarci con dei candidati che abbiano, che hanno, la capacità, i numeri e soprattutto sanno stare sul territorio, vogliono bene al territorio. E questo i cittadini lo percepiscono, cioè che i politici della Lega sono diversi, perché siamo diversi, dagli altri, questo la gente ce lo riconosce. È vero che un sindaco, in quanto sindaco e quindi avendo visto i problemi concreti della gente, è più portato e ha anche più capacità di poter anche governare? No, la scelta che ha fatto la Lega da sempre, sia in questa legislatura che anche nelle precedenti, è stata quella comunque di mandare a Roma tanti amministratori, cioè gente che è stata sindaco, che è sindaco, che è stata consigliere comunale, cioè che ha governato il territorio. Perché se tu mandi a Roma persone che hanno conosciuto il territorio, hanno lavorato sul territorio, conoscono di più i problemi, sanno come provare a risolverli. Mentre invece negli altri partiti spesso mandano lì della gente che non ha assolutamente questo tipo di esperienza e si perdono, si perdono perché non hanno la concretezza di conoscere i problemi come la Lega sa fare attraverso i suoi amministratori. L'ultima battuta sulla Lega, Maroni l'ha detto, servirà anche a dicembre quando ci sarà il congresso, un cambio generazionale anche in Lega, lei insieme a Salvini è uno dei papabili possibili, le fa un po' spavento anche questa corsa? Ma io, al di là di competere con Matteo che è un amico davvero, tra l'altro si assomigliamo in molte cose, dicono che siano diverse ma in realtà siamo in Lega tutti e due da tantissimi anni, legati al territorio, esperienza in consiglio comunale, abbiamo tante cose in comune, ma al di là di questo io spero, glielo ho detto al segretario federale lunedì, glielo ripeterò all'infinito che resti lui segretario federale perché è stato eletto all'unanimità praticamente poco più di un anno fa, è un ottimo governatore e secondo me è il leader giusto per trainare il nostro movimento, quindi il mio auspicio è che non si faccia congresso e che resti proprio segretario.